...e trovare anche noi scorsi, perché se io ho trauma e devo dire che non è giusto, cosa succede? Io sono diviso continuamente. Allora, la rinconciliazione, che abbiamo il problema, tutto quello che vuole là, ma si deve avere queste nostre battaglie interne, e scoprire il piano che abbiamo fatto, queste battaglie interne, ulteriori, non a me, continuano, ma anche le azioni, le azioni, le azioni, io ho fatto questa idea, e cerco su me stesso, tra questi ideali, finché, ottono, il successo di tornare davanti alla terra, e se il successo poi è imprevedibile. è che sicuramente ironia in batterie, troppo sono assurta, che secondo me, situato a tutte queste maciere, queste immorazioni pesanti, di roku di tristezza, poffro paio di nonno, ne ho detto che non lo abbia fatto. E poi, passiamo, a gente lè tanto ora che stiamo rinnellando la prima, è molto utile a tutti, ma attenzione da qualcuno ventoca. Grazie.